Ritiratosi dal servizio attivo, l'ex colonnello Matrix si è trasformato in un tranquillo ragazzo padre e pensa soltanto alla sua figlioletta. Ma un feroce dittatore centroamericano rapisce la bambina per ottenere l'aiuto di Matrix nella sua sanguinosa scalata al potere. Aiutato da una bella hostess di colore, da armi super sofisticate, da muscoli d'acciaio e da una notevole dose di senso dell'umorismo, Matrix salverà la bimba e sconfiggerà il cattivo.